sembra nuovo eh guarda lì che saldatorina pulita ho fatto qui ma quante ne so vi ricordate era divisa a metà questo invece ora saldato cioè non è pulitissima però insomma saldato e verniciato allora io adesso un quesito a parte questa pubblicità occulta alla finale della leovince io volevo fare una domanda ai più esperti ma non ai chiacchieroni eh ai più esperti come vedete visto l'estremamente alto livello di cure che ho avuto verso la mia moto negli ultimi quattro anni questo scarico in ripetuti chilometri di sterrato in tutto il mondo è praticamente macchiato sporco intaccato danneggiato qual è chiedo agli esperti qual è il metodo casereccio più efficace per ripristinare diciamo la la bellezza dell'alluminio dello scarico lo so che alcune macchie alcune cose rimarranno però il meglio che posso fare per farlo tornare liscio e brillante qual è io ho provato con questa come si chiama questa questa qui ho fatto dietro ho detto vabbè dietro tanto non si vede se la rovino diciamo che torna brillante però è impossibile fare un lavoro omogeneo tant'è che in alcune parti è più chiaro e in alcune è più scuro perché ovviamente è più abrasivo quindi porta via il materiale ma lo porta via in maniera non omogenea per cui davanti voglio fare una cosa un pochino più ordinata mi consigliate un prodotto o un metodo tipo con qualche spazzola o il trapano attaccato a una spazzola attaccata al trapano con carta vetrata ditemi e lo farò non stasera ma lo farò attaccato Grazie.